Un tuffo nell'antica Università di Sant'Andrius dove incontra un gruppo di studenti italiani prima di approdare al G20 dei ministri economici e dei governatori delle banche centrali l'occhio di Giulio Tremonti va soddisfatto ai nuovi incoraggianti dati sull'economia di casa nostra Sono tanti anni che stavamo indietro, sembrava che gli altri fossero le pecore bianche e noi la pecora nera Non è così, stiamo andando nella media, diciamo, nella media dei grandi paesi, nella media dell'Europa e essere così è già una cosa buona per l'Italia L'avevamo detto prima della crisi, altri avevano un'economia drogata dalle carte di credito, dalle bolle finanziarie e noi andavamo con la manifattura, il tempo è stato gallantuomo, dobbiamo continuare così Alla G20 che entra nel vivo domani e che cerca la ricetta per consolidare la ripresa mondiale Tremonti ripropone la linea del rigore Meno liquidità nelle banche e più soldi alle imprese Maggiori controlli sul sistema finanziario